Giacomo Agostini, buongiorno, tanto minchino sempre. Grazie, grazie, buongiorno. Grandissimo, Ago. Allora, quattro gare dal termine, dieci punti di vantaggio per Orghe Martinsu Pecco Bagnaglia. Come lo vedi il campionato? Bello, duro ma bello, duro nel senso che loro adesso effettivamente le ultime gare, sai, non c'è come l'inizio che puoi riparare in quanto hai tante gare ancora davanti a te. Oggi ce ne sono poche, quindi basta un errore o basta anche un piccolo guasto, eccetera, che perdi tanti punti. Quindi è un campionato molto teso, c'è molta tensione, Bagnaglia credo che sia già abituato a questa tensione. Ecco, questo fa la differenza tanto, Ago. Credo che adesso diventa, sì, perché adesso pensi, invece da pilota dici, qui non posso più sbagliare, quindi questo non ti fa deglutire. E' quello che fa la differenza, perché è molto uguale, hanno una moto uguale, hanno due team di altissimo livello. Sono bravi tutti e due. Sono bravi tutti e due, sbagliano un po' tutti e due. E beh, sai, quando sei al limite è così, insomma, d'altronde se vuoi vincere, oggi poi te lo puoi permettere. Sono più come i miei tempi che purtroppo la caduta poteva essere molto molto grave. E oggi, fortunatamente, con tutte le sicurenze, le piste, eccetera, le piste più sicure, poi permette di cadere. Quindi, ecco, uno dice, va bene, ora va o la spacca. Rischia un po' di più. Rischia un po' di più, insomma. E quindi tante ganute ci sono. Però io penso che il campionato si deciderà l'ultima gara, credo, salvo i previsti, salvo cose che non vorrebbero che succedessero, che succedono. Quindi direi che a Valencia è bello, è bello che finisca a Valencia così teniamo acceso il nostro sport fino alla fine del campionato. Ma se tu dovessi scommettere un euro, non di più, su chi lo scommetteresti? Su Pecco o su Orghe? Non lo so, non lo so. Dico che sono tu due veloci, Martin è molto molto veloce, molto aggressivo, però sangue caliente. Pecco un po' più calcolatore, quindi pensate a queste parole e poi decidete voi. Tu sei molto amico di Paolo Campinotti, sai che molti dicono che la Ducati non farà mai vincere il mondiale a Campinotti perché va in Yamaha, Martin va in Aprilia. Tu come la vedi questa cosa? No, io penso che la Ducati è un'azienda molto seria, importante, non può giocarsi la reputazione. Devono lasciare, vincere il migliore, è così, hanno il diritto tutti e due di avere la moto uguale, di avere la moto ufficiale, quindi è giusto che rovinerebbero il campionato. Quindi io credo sulla Copping, perché la cosa non succederà mai. Una battuta su Mark Marquez? Mark sta arrivando, di sempre che lotta, nonostante, insomma, bisogna anche pensare che non c'è molta differenza, però alla moto del 2023, io credo che sia poca differenza, però oggi lottano con pochi decimi, quindi questo poco potrebbe essere importante. Quindi l'anno prossimo vedremo un altro bel campionato, ci sarà una grande lotta e per il primo posto sicuro che ci sarà anche Mark Marquez. Ago vai in Australia, mi hai detto, come hai fatto? Parto, sì, domani parto per l'Australia, vado perché mi hanno invitato, hanno delle MV e vogliono che faccia qualche giro sulla pista di Philippine, non so se è prima della Spring Race o prima della MotoGP, e quindi mi hanno convinto e io sono poi felice, il viaggio è lungo, però poi giù ho tanta gente, tanti amici qua nel mio mondo, quindi a me piace stare nel mio mondo. Grazie Ago! Grazie a voi, ciao! Che bello! Grazie a tutti!